Ok, è giunto il momento di fare un reset e cambiare le decorazioni autunnali e natalizie, però prima di tutto togliamo le decorazioni autunnali, ho detto facciamole insieme così mi diverto un po' di più. Anche qui devo togliere tutto quanto le zucchette, sarà tutto molto divertente. Allora, come primo step tolgo le pampas che ho amato alla follia e anche queste foglie di alloro oro, le metto qua dentro sperando si conservino fino al prossimo anno, ho un po' di dubbi ma ci spero. Spero di non aver fatto la cavolata del secolo ma di ritrovarle poi il prossimo anno. Mi dispiace tanto 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 ma devo rimuovere le foglioline e le zucchette, anche questo cestino stupendo, ciao ciao. Il nostro amato amico fantasmino, la candela con il porta candela, anche questa va tolta, la ciotola con gli omaggi per gli ordini vintage, la porto di là, la tazza con il fantasmino tutta rotta. Devo rimuovere le batterie anche a quelle e ovviamente toglierle e poi dobbiamo decidere cosa scrivere qui.